ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su un altro video di aggiornamento sulla nuova patch su un altro gioco dato che quello fatto su no man sky origins mi è piaciuto lo voglio rifare per quanto riguarda space haven porto informazione ogni tanto e quello che dice steam che poi ho verificato è passato sta per uscire l'alfa 10 di space haven ma al momento è giocabile mandando il gioco in modalità experimental ci sono veramente delle succose novità calcolando anche che il gioco è da qualche tempo anche in italiano ed è uno secondo me degli strategici spaziali gestionali più interessanti allora andiamo a vedere le novità hanno modificato lo star system lo star map che trovo un pochino più alla faster than light e un pochino più immediata di quello che era prima con i vari simboletti dei pianeti insomma e hanno modificato questo hanno messo dei cluster insomma ci sono delle delle novità per quanto riguarda la mappa ora una delle più importanti un'altra più importante novità sono tutte molto belle hanno aggiunto delle stazioni spaziali a cui noi possiamo arrivare non troveremo più soltanto navi che arrivano ripartono tra pirati e tutto sapete che mesi fa hanno aggiunto anche la possibilità di combattere tra una nave e altra hanno aggiunto delle stazioni che si dividono tra stazioni di coltivazione di riparazione basi di fazione le outpost di commercio le stazioni minerarie e anche altre supplementari infatti qua vedete anche una base pirata che dovrebbe essere questa questa invece è una una farm costruita diciamo su un asteroide e questa invece in riparazione che ci può aiutare nei nostri viaggi insomma quindi molto interessante questa cosa ma non finisce qui perché abbiamo anche la ricerca viene aggiunto proprio un modello simile a quello mi ricorda oxygen not included una stazione di ricerca per migliorare la tecnologia quindi possiamo potranno apre un mondo diciamo per il futuro per lo sviluppo futuro perché poi lo andremo a vedere avrà a che fare anche con i reattori che sono stati depotenziati ma non vi dico niente andiamo avanti perché hanno introdotto un sistema adesso non ricordo esattamente in quale gioco c'era una cosa del genere però non è visto tutto il sistema di cibo cioè praticamente hanno aggiunto dei cibi ma soprattutto hanno aggiunto i valori di questo cibo quindi il valore del cibo complessivamente diviso comunque tra proteine grassi carboidrati vitamine tossine quindi ad esempio una carne di mostro può essere molto tra le più nutritive ma anche tra le più tossiche 75 di tossine questo apre un mondo per quanto riguarda tutto quello che sono le malattie e infatti come dice qua potete anche i vostri omini insomma i vostri personaggi possono anche vomitare stare male durante magari una missione di di sbarco di assalto di una nave aliena insomma diventa molto curiosa la cosa hanno aggiunto la farm delle alghe quindi potete coltivare le alghe e hanno rivisto anche l'iperium hyperdrive ed energium power generator cioè praticamente sono stati resi meno potenti meno efficienti in modo da poter incentivare la ricerca e quindi migliorare migliorare diciamo le tecnologie con la ricerca appunto sono state aggiunte due nuove facility per aiutare la la nave a saltare nell'iperspazio queste facility hanno l'abilità di usare i materiali quelli grezzi come risorse di energia e carburante insomma sono un po come la delorean quando nel secondo film di ritorno al futuro mettono le bucce di banana le lattine sono state aggiunti nuovi nuove navi nps quindi nuove navi navi civili ricordano un po battle star galactic e cose del genere una nuova nave per l'alleanza militare che le incontreremo in futuro il culto di new haven nuova nave e gli androidi nuova nave anche per loro insomma di novità diciamo che ce ne sono state veramente tante calcolando che da un giorno all'altro poi hanno aggiunto anche il combattimento tra navi che non c'era è un gioco davvero molto molto interessante e come potete vedere vabbè io adesso sono già in experimental quindi c'è già l'alfa 10 l'inizio vabbè non sembra niente diverso però c'è da dire che il l'italiano c'è io credo che l'italiano potrebbe presentare devo ancora provarlo bene ma potrebbe presentare magari qualche parte non tradotta soprattutto sulle cose nuove però io più di così non non so chi ci sia dietro chi supporti la traduzione italiana per questo gioco però space haven è sicuramente uno di quei giochi che a occhi chiusi vale il prezzo che costa su steam ragazzi finisce qui la news video news su questo titolo ovviamente non mancate come al solito di farmi sapere nei commenti se poi si apprezzate questo tipo di video quando mi vengono di getto li faccio vedo una novità che mi piace insomma dico a figo questo devo assolutamente dirlo faccio il video ragazzi un grazie a tutti e alla prossima e ciao ciao